Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TG7 Basilicata. I vigili del fuoco del comando di potenza sono intervenuti nella notte tra il 17 e il 18 gennaio a Castel Saraceno per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati a causa della neve su una parete rocciosa del Monte Alpi nel corso di un'arrampicata. Le operazioni di ricerca e soccorso coordinate dal direttore Antonio Summa sono state condotte sinergicamente con gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impiegando anche un bruco delle nevi in dotazione ai vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di potenza. Le operazioni di terra si sono rivelate particolarmente difficili a causa del notevole manto nevoso presente che ha impedito alle squadre di salvataggio intervenute le manovre di recupero. Per agevolare le operazioni di salvataggio dei due alpinisti è stato richiesto l'intervento di un elicottero dell'aeronautica militare, abilitato al volo notturno, giunto intorno alle ore 5.30 e un elicottero dei vigili del fuoco per volo diurno per garantire ulteriori possibilità di recupero. Le operazioni sono state rese difficili dalla poca visibilità ma intorno alle 9.30 circa i due alpinisti sono stati tratti in salvo, infredoliti ma coscienti ed orientati. Andiamo avanti con l'informazione. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Venosa nella notte di giovedì 14 gennaio intorno alle 3.45 nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto lungo la SP 168 che collega Venosa a Melfi hanno intercettato un'autovettura Alfa Romeo 147 il cui conducente alla vista dei militari accelerato nella marcia si è dato alla fuga a velocità molto forte. Ne è scaturito un inseguimento lungo proprio questa arteria stradare che si è concluso dopo qualche chilometro quando il fuggitivo con una manovra improvvisa ha posizionato di traverso la macchina sulla carreggiata per poi abbandonarla e salire su una seconda vettura, una sorta di SUV con a bordo altri due complici che fungendo probabilmente da staffetta grazie alle caratteristiche tecniche si è dileguata imboccando ad elevata velocità una strada interpoderale. Nel corso della battuta di ricerche che si è protratta per tutta la notte i carabinieri con l'ausilio dei militari della stazione di Maschito hanno rinvenuto una Fiat Doblo abbandonata su uno dei terreni circostanti. I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che quest'ultimo mezzo e l'Alfa Romeo 147 erano stati rubati pochi giorni prima in Puglia. Su entrambi gli autoveicoli sono stati condotte ispezioni molto attente ed accurate. All'interno del bagagliaio dell'Alfa Romeo sono stati rinvenuti e sequestrati diversi strumenti atti allo scasso. Entrambi, a conclusione delle verifiche del caso, sono state restituite a legittimi proprietari. Il risultato operativo ancora una volta sottolinea l'importanza di assicurare il controllo del territorio in chiave preventiva lungo le principali vie di collegamento. Andiamo all'ultima notizia. Il Dipartimento della Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha assegnato alla questura di potenza due nuove autovetture Giulietta, un modello storico del marchio Alfa Romeo. I due mezzi montano un motore diesel con cambio automatico e presentano una serie di allestimenti specifici, tra cui la barra luminosa, messaggi variabili, sono destinati all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Implementeranno infatti il parco auto delle volanti in considerazione anche del rafforzamento proprio dei servizi di controllo del territorio disposto nel capoluogo potentino dal questore Pietro Romeo. I due mezzi, ha precisato il questore, serviranno per rendere più incisiva l'azione di prevenzione di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato Potentina, da sempre al servizio dei cittadini. Io come ogni sera naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a domani.